benvenuti sul canale youtube di bramley apple oggi vi volevo parlare del perché faccio sempre la versione a colori e in bianco nero di tutte le foto che scatto io pubblico sempre entrambe le versioni e ci sono stati dei follower che mi hanno chiesto come mai questa scelta e altri che mi hanno rimproverato sul fatto che un fotografo dovrebbe essere in grado di decidere qual è la resa migliore per una determinata foto e pubblicare solo ed esclusivamente la versione che ritiene più adatta in realtà io pubblico sempre tutte e due e adesso vi spiego il perché ho fatto il liceo artistico quindi noi fin dall'età di 15 16 anni eravamo esposti a modelle nude dovevamo fare figura disegnata dovevamo fare modellato e uno degli elementi che ci facevano copiare per imparare bene l'anatomia umana era proprio la modella nuda perfino la mia prova di maturità che questa è una cosa abbastanza eccezionale la mia prova di maturità consisteva nella seconda prova pratica che era figura disegnata io ero nella sezione architettura del liceo artistico quindi era una cosa un po' strana però ogni tanto succedeva ed era successo proprio nell'anno in cui dovevo fare io l'esame di maturità quindi è stata un po' una mia formazione fin da giovane età quando ho cominciato a scattare fotografie avevo 21 anni giusto per darvi la prospettiva adesso ne ho 49 e ho cominciato a fare fotografie con questa fotocamera avevo selezionato su consigli di persone che stimavo molto avevo selezionato questa fotocamera qui perché era quella che mi avrebbe permesso di montare delle ottiche zeiss perché yashica e contacts facevano parte dello stesso sistema avevano la stessa baionetta e quindi potevo montare sia ottiche yashica sia ottiche zeiss e sia molte ottiche che facevano all'epoca sigma tamron che erano comunque parecchio più economiche ma di qualità molto bassa quindi questa qui diciamo che era un po' il mio sogno all'epoca una fotocamera economica ma comunque di buona qualità è un obiettivo eccezionale come lo zeiss in realtà purtroppo l'obiettivo che vedete qua che un 85 2 8 è arrivato molto dopo l'ho comprato ultimamente su ebay usato in realtà io all'epoca avevo comprato anche un secondo corpo macchina questo contacts quindi decisamente più prestigioso ma tutte le ottiche che usavo all'epoca erano yashica nella migliore delle ipotesi e come dicevo prima tamron e sigma che erano molto più economici o cose ancora più rozze e primitive quindi diciamo che erano troppo costosi di zeiss non potevo permettermeli ed è un peccato perché all'epoca sarebbe stato veramente geniale avere una fotocamera di questo tipo così semplice è un'ottica buona perché la funzione della fotocamera era essenzialmente meccanica quindi se io mettevo un buon una buona pellicola all'interno della fotocamera e un buon obiettivo davanti riuscivo ad ottenere dei risultati eccezionali direi anche professionali a tutti gli effetti perché la macchina doveva solo aprirsi chiudersi e fare entrare un certo quantitativo di luce quindi tutto sommato era la pellicola che faceva la differenza ed era l'ottica che faceva la differenza questi erano i due elementi principali la macchina era solo un tramite al giorno d'oggi invece tutto è cambiato perché tu devi avere sia il sensore di buona qualità che recepisca la luce e la possa elaborare e sia l'ottica di buona qualità quindi adesso è diventato tutto molto più complicato molto più costoso allora c'era anche questa possibilità che era una via di mezzo ma tanto quello che contava era la pellicola sostanzialmente comprare una pellicola più costosa come poteva essere la velvia per le diapositive c'era questa fuji film velvia e quella lì con questo obiettivo eppure in questa macchina abbastanza basica avrebbe dato dei risultati incredibili quando ho cominciato a scattare fotografie ho voluto naturalmente riprendere il discorso lasciato con la scuola d'arte e dedicarmi un po al nudo fotografico il punto è che ero così fortunato di avere un'amica lungimirante che ha fatto da modella in effetti non era una professionista non aveva nessun interesse a pubblicizzare questa cosa e quindi io avevo delle limitazioni quindi non potevo fare foto troppo esplicite non potevo far vedere il volto della modella erano tutti nudi molto castigati e queste limitazioni per fortuna adesso non le ho più anzi cerco di fare esattamente il contrario ma all'epoca chiaramente era una cosa molto diversa io avevo 21 anni quindi adesso ne ho 49 e praticamente parliamo di quasi 30 anni fa e vi lascio immaginare quale poteva essere la percezione all'epoca di questo genere di fotografia era un po più complicata come situazione quindi era comprensibile che questa ragazza non volesse esporsi troppo anche le foto più esplicite le andavano tenute comunque nascoste questo era un po il nostro intendimento quindi non si potevano inviare le pellicole al laboratorio farle sviluppare farle stampare e pretendere che la cosa rimanesse nascosta oltretutto la polaroid invece era un po più per i pervertiti e veniva considerata un po una cosa diciamo più morbosa mentre io cercavo di fare cose artistiche diciamo quindi l'unica possibilità che avevo per fare queste foto di nudo era quella di avvicinarmi al bianco e nero con il bianco e nero sarei riuscito effettivamente a sviluppare la pellicola per conto mio stamparmi le mie foto con i tempi che volevo e riuscire ad ottenere dei risultati molto buoni ecco perché alla fine ho cominciato a lavorare con il bianco e nero ho sviluppato una grossa esperienza di camera oscura man mano avevo anche delle camere oscure sempre migliore alla fine sono riuscito a averne una molto valida lì a casa mia la vecchia casa dove vivevo con i genitori e quindi le immagini monocromatiche fanno un po parte della mia del mio lessico normale della del mio vocabolario ecco quindi anche oggi vorrei riprodurre questa magia del bianco e nero in quelle che sono le fotografie digitali ho persino considerato l'acquisto di una laica monochrome perché la laica monochrome sarebbe in effetti il miglior apparecchio per riuscire a fare una fotografia in bianco e nero che sia senza compromessi però direi che non ne vale la pena perché effettivamente per certi versi sarebbe limitante la laica ha deciso di fare questa fotocamera dedicata esclusivamente al bianco e nero e proprio per questo è capace di dare una qualità che nessuna altra fotocamera colori può replicare il sensore dedicato solo al bianco e nero è capace di risultati incredibili il problema è che pone delle limitazioni veramente enormi e quindi io ho cercato di limitarmi ho cercato di cambiare idea più volte perché sarei tentato di prenderla ma è molto costosa e soprattutto mi limiterebbe troppo vediamo adesso in dettaglio quali sono queste limitazioni che mi darebbe successivamente però intanto vediamo un po perché comunque sarebbe strano prenderla sarebbe inutile prenderla per me io ho visto che il mio pubblico tutti i miei follower preferiscono le immagini a colore a colori perché la versione a colori solitamente ottiene sempre da tre a quattro volte di più il mi piace di quelle in bianco e nero io le pubblico fianco a fianco la stessa giornata ed effettivamente questo è un po la proporzione che ho potuto notare dipende dai social media ma tutto sommato la tendenza è quella quindi ho bisogno di creare il colore assolutamente non ho alternativa e poi in più posso aggiungere la versione in bianco e nero per quelle poche persone che la sanno apprezzare ma il più delle volte io stesso non riesco a decidermi se preferisco la versione a colori o quella in bianco e nero quindi se non riesco a decidermi neanche io perché rendere infelici la maggior parte dei miei seguaci senza mettere il colore è chiaro che mi conviene mettere tutte e due e oltretutto renderei infelici loro e renderei spesso e volentieri infelici anche me perché ci sono delle volte in cui preferisco il colore o non so scegliere fra le due quindi torniamo un attimo alla leica m monochrome dicevamo che sarebbe il massimo della qualità ma sarei limitato perché perché in effetti avrei solo un diciamo un bianco e nero come raw e sarebbe praticamente l'unico file che ho a disposizione non avrei la possibilità di avere il colore e quindi non sarei in grado di apportare quelle modifiche ai valori tonali di determinate zone della foto agendo sui canali dei singoli colori vi faccio un esempio una cosa che faccio raramente ma può capitare se io avessi un fondo rosso alla modella e volessi schiarirlo oscurirlo per far esaltare di più o di meno la modella sul fondale lo potrei fare semplicemente agendo sul cursore del colore rosso quindi questa è una libertà che offre la post produzione se volessi farlo con la monochrome dovrei per forza montare un filtro colorato al momento dello scatto perché poi dopo avrei solo una scala di grigi nel mio nel mio file e non potrei fare queste scelte successivamente dovrei farle in fase di ripresa e questo mi porterebbe via del tempo in fase di ripresa e mi sarebbe sarebbe una cosa negativa per me mentre fase di ripresa io devo essere al massimo dell'efficienza successivamente invece ho tutto il tempo di rielaborare file e di prendere queste decisioni con calma quindi tutto sommato avere un file a colori per me è ancora la cosa più pratica poi sarei limitato anche nella scelta degli obiettivi abbiamo visto in un filmato precedente come il usare una leica m come la m2 40 che ho io a colori mi imponga di usare praticamente solo il 50 mm il 35 è già troppo grande angolare per il tipo di foto che faccio io di nudo lo uso molto raramente e il 50 mm è quello ideale mentre già al 90 non riesco a metterlo a fuoco perché il telemetro non è il sistema più adatto per mettere a fuoco quel tipo di obiettivi quindi praticamente avrei una leica solo in bianco e nero e solo col 50 sarebbe decisamente limitante poi come dicevo prima è anche molto costosa la laica monochrome costa ancora più delle laica m normali quindi assolutamente fuori portata per me anche un modello vecchio comunque non varrebbe la pena sarebbe troppo costoso siamo già al terzo modello ormai di monochrome se non erro quindi effettivamente ci sarebbero delle possibilità anche nell'usato ma comunque sono troppo costose quindi anche se non posso permettermi un sensore dedicato esclusivamente al bianco e nero quello che posso fare è cercare di acquistare degli obiettivi classici che possono aiutare la mia tecnica nel bianco e nero digitale e infatti è proprio quello che sto facendo ultimamente ebay è pieno di questi obiettivi e io sto facendo un mincetta di tutti quelli che ho sempre sognato da giovane come per esempio questi con taxi ascica e che adesso è finalmente sono alla portata di tutte le tasche e si possono montare tranquillamente con un adattatore diciamo si possono montare a quella a quella lumix s1 che vi ho fatto vedere nell'ultima puntata gli obiettivi moderni gli obiettivi attuali sono ottimizzati per la nitidezza perché devono andare a lavorare con sensori che sono ad altissima definizione con tanti megapixel e oltretutto vengono ottimizzati per le prestazioni su tutta l'immagine e quindi soprattutto sui bordi e cercano di dare una consistenza di prestazioni fino ai bordi immagini cercando di eliminare e di correggere tutte quelle che sono le aberrazioni un po con il software e un po con il disegno dell'ottica proprio disegno ottico studiato al computer per fare obiettivi praticamente più perfetti possibili è chiaro che la resa di lenti che sono comunque tonde su un sensore che è piatto non sarà mai perfetta non esisterà mai un obiettivo che sia perfetto però con l'ausilio del computer riescono a fare degli obiettivi che sono veramente molto clinici e molto scientificamente corretti e diciamo che questi nuovi obiettivi così attenti alla nitidezza riescono effettivamente a sulla carta a dare dei dati che impressionano però spesso e volentieri queste sono una diciamo una funzione di marketing loro cercano di impressionare con livelli altissimi di risoluzione con test mtf che siano perfettamente che siano anche belli da vedere perché uno immagina che l'obiettivo sia meglio di quelli vecchi cercano sempre di aggiungere un po di nitidezza in più eccetera però alla fine io ritengo che si stia un po perdendo invece quello che il sapore della fotografia nel mio caso con ritratti e foto di nudo io non ho bisogno del massimo della scientificità non devo riprodurre dei vecchi documenti nel modo più fedele possibile io ho bisogno di dare emozioni ho bisogno di creare delle foto che siano che abbiano una qualità tattile e gli obiettivi vecchi stranamente riescono meglio in questo almeno a mio parere quindi praticamente dato che io sto cercando di fare una forma d'arte apprezzo altri parametri come potrebbe essere il micro contrasto il micro contrasto che sembra che sembra una cosa invisibile e che non si riesce a capire che cosa sia di preciso in effetti è un po quella che è la fedeltà dell'obiettivo così come c'è l'alta fedeltà nell'ascolto e ci sono apparecchi acustici che possono rendere l'alta fedeltà allo stesso modo il micro contrasto è quella è quella funzione dell'obiettivo che riesce a creare un'infinita serie di grigi dei passaggi molto morbidi fra una tonalità e l'altra ed è una cosa che tutto sommato riescono a fare meglio gli obiettivi più vecchi soprattutto questi zeiss o gli obiettivi di laica eccetera quindi per il bianco e nero in particolare questa qui è una cosa importantissima perché non c'è bisogno di fare solo bianco e nero adesso le tendenze purtroppo moderne dei fotografi questa è una cosa che enfatizzano anche di più con la post produzione ma già la richiedono dagli obiettivi e la massima nitidezza poi una volta che sono su lightroom cominciano a lavorare sulla chiarezza e la portano all'estremo puliscono la pelle per farla sembrare quasi di cera e tutte queste queste elaborazioni portate all'estremo non lasciano più quella naturalezza l'immagine che invece quella che cerco io perciò io do il benvenuto ai vecchi obiettivi e cerco di utilizzare quelle che sono le loro caratteristiche al meglio quindi questa è un po la ragione per cui io adesso sto realizzando entrambe le le versioni bianco e nero e colore e cerco non ho il coraggio di prendere la strada del bianco e nero fino in fondo con la laica m monochrome ma comunque non posso vivere senza il bianco e nero non riesco a decidermi quale preferisco fa bianco e nero e colore e quindi diciamo che un po un amore e odio per il bianco e nero che però farà sempre parte della mia vita all'inizio quando ho cominciato questo progetto di brown le apple ero solito fare il bianco e nero solo per un numero molto limitato di fotografie quelle che lo meritavano di più come bellezza o perché avevano i toni giusti perché avevano una composizione più solida eccetera adesso invece come esercizio faccio la versione in bianco e nero di tutte le foto che ho selezionato a colori per la pubblicazione una volta che ho scelto quali sono le foto colori e le ho bilanciate il meglio possibile poi faccio sempre anche la versione in bianco e nero di tutte trovo che sia un ottimo esercizio e oltretutto è diventato un po una parte integrante dello stile di brown le apple grazie per l'attenzione e noi ci vediamo alla prossima puntata ciao 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 ciao